La parola che ha letto Don Michele è in realtà il cuore dell'insegnamento o della condivisione che intendevo fare, quindi mi sono sentito confermato dal Signore sul tema che stiamo per affrontare. Certamente oggi abbiamo da compiere un atto importante per la vita del rinnovamento tutto, perché il rinnovamento è fatto dall'insieme di tante realtà. Il rinnovamento non è una struttura monolitica, il rinnovamento da sempre è una struttura in realtà di esperienze che hanno deciso di camminare insieme. Così è nato il rinnovamento. Io non so quanti di voi erano agli inizi del rinnovamento, io neanche c'ero, io ho iniziato il mio cammino già un anno dopo che il rinnovamento aveva deciso di denominarsi il rinnovamento nello spirito, nel 77. Nel 76 la stragrande maggioranza delle realtà carismatiche italiane, nate possiamo dire anche in modo indipendenti l'uno dall'altro, quindi attenzione questo è molto importante, che il rinnovamento in Italia dal 72 al 76 non ha avuto un centro da cui sono nate le esperienze, ma ha avuto in realtà varie gemmazioni di fratelli e sorelle che avevano fatto esperienze o in Francia o in America, o sacerdoti o fratelli che venivano da quei paesi con l'esperienza del rinnovamento carismatico di quei paesi, l'hanno portato in Italia. Capite? Questo significa che noi non siamo una realtà con una comunità centrale, da cui poi è nato tutto. Attenzione perché le origini di come siamo nati non è una cosa di poco conto, perché ci conforma, ci dà la nostra identità. E quando nel 76 le realtà allora esistenti decisero di denominarsi rinnovamento nello spirito, non decisero di dar vita ad una nuova comunità, ma decisero che l'esperienza del rinnovamento carismatico in Italia si denominasse così, ma un'esperienza che a Roma aveva delle persone, a Milano ne aveva altre, a Napoli ne aveva altre. Non so se è chiaro il ragionamento. E decidono di darsi un comitato. Un comitato che chiamano di servizio, ma di servizio a che cosa? Alla corrente di grazia. Cioè a quella esperienza che non ha avuto un fondatore. I primi padri storici del rinnovamento che io individuo e che tutti quanti noi individuiamo in modo convenzionale sono stati Dondino e Padre Mario. Ma Dondino e Padre Mario non hanno iniziato il rinnovamento in Italia. Qualcuno gliel'ha trasmesso. E' qualcuno che l'ha iniziato prima di loro. Ad esempio faccio un nome, un nome che tutti quanti, Padre Serafino Falvo, che non ha avuto mai responsabilità pastorale. A Roma in realtà è la Gregoriana. E' il gruppo che nasce nella Gregoriana, il centro propulsore. Ma quel gruppo non è nato nella Gregoriana, è nato fuori e poi è andato alla Gregoriana. Lo sapete questa cosa? Perché è importante ed è bella. Perché nessuno può dirsi che il rinnovamento esiste grazie a me. E il rinnovamento è una cosa che ci precede e ci supera. E' che tutti noi siamo chiamati a servire. E siamo chiamati a servire, tra virgolette, anche evitando di omogeneizzare le esperienze in una dinamica di uniformità. Noi siamo chiamati alla comunione, non ad essere uniformi. Tanto è che qui siete in tantissimi gruppi. Ma molti di voi potranno avere un gruppo a distanza di un chilometro, di due chilometri. Non penso soprattutto nelle città. Ma il gruppo che è a distanza di un chilometro, di due chilometri, è completamente diverso dall'altro. Non c'è un vestito che sta bene addosso a tutti. E' l'esperienza spirituale, la matrice spirituale, che ci mette insieme. Se manca quello, capite bene che non possiamo dire che siamo del rinnovamento nello spirito. Oggi in Italia c'è l'avvio della fase delle elezioni dei coordinatori regionali, dei consigli regionali. Ma attenzione, la Lombardia è un pezzo di rinnovamento. E posso dire questo, che è tutto il rinnovamento come senso di responsabilità. Cioè quello che succede in Lombardia non è una cosa che non conta in Sicilia o non conta in Trentino Alto Adige. Perché siamo parte tutti della stessa famiglia. Ma quello che succede in Lombardia non è, diciamo così, il valore assoluto di tutto il rinnovamento. Quindi ciascuno di noi, proprio perché parte, è corresponsabile della vita del rinnovamento. Ed è corresponsabile nella misura in cui si lascia usare dallo Spirito Santo. Credo che quindi tutti dobbiamo sentire da un lato la gioia di sapere che siamo in un qualcosa che ci supera e che vorrei dire anche ci rassicura. Perché in qualche modo, sì, dipende da noi, ma fino a un certo punto. Da noi dipende lasciarci usare e fare in modo che lo Spirito Santo prevalga, sia il vittorioso di cui parlavi tu prima. Colui che deve vincere oggi non è un fratello o una sorella, è lo Spirito Santo. Volete farlo vincere lo Spirito Santo? Sicuro? Allora scordatevi le idee con le quali siete venuti qua. i pregiudizi, che non significa per forza i pregiudizi, non è per forza un fatto negativo, no? Ma l'avere è una valutazione previa. L'avere, cioè una valutazione umana, che ci vuole? Perché le valutazioni umane ci vogliono? Perché siamo fatti di ciccia, siamo fatti di carne ed ossa, noi non siamo puro Spirito. Meno male, perché se fossimo stati puro Spirito al primo peccato eravamo dannati per l'eternità. come essendo fatti di materia ed essendo inseriti nel tempo e nello spazio, noi siamo nel tempo della misericordia, ma anche nel tempo della santità. Sapete che voi siete in un cammino di santità, vero? Che siete già santi? Come no? Non vazzardate a dire che non siete santi, se no mi ammazzo. Ti faccio diventare subito santi e canonizzati voi. La vostra santità non dipende dalle vostre opere, che è la cooperazione all'azione del santo, ma la vostra santità dipende semplicemente da un fatto, che siete stati già salvati. Perché siete stati amati per primi. Dio ci ha amati per primo. Noi siamo santi non per meriti, ma in virtù di un amore misericordioso. Meno male. Se sono santi non lo diventeremo. Mai. Allora, se voi mi dite io non mi sento santo come lo Spirito Santo, avete perfettamente ragione. E' perché è Lui che ci santifica. Ma nei momenti in cui noi entrammo in relazione con la santità di Dio, non possiamo sottrarci a questa santità e non riconoscere che Dio si fa santo nella nostra vita. E' che noi diventiamo santi in Lui. Perché siamo già stati salvati. Noi non ci dobbiamo salvare. Noi siamo stati già salvati. E dobbiamo cooperare a questa salvezza. La cooperazione a questa salvezza, quindi, può non prescindere dalla nostra dimensione anche umana. Attendo a quello che vi sto dicendo. Noi non siamo angeli. E c'è tutto un coinvolgimento anche della nostra mente, delle nostre emozioni, del nostro corpo, della nostra intelligenza, della nostra esperienza storica che incide. Durante la preghiera il Signore ha dovuto fare gli straordinari per guarire le ferite della storia nella nostra vita. O no? E anche le ferite della storia pastorale. Perché l'impegno pastorale porta in sé dei problemi. Qualche croce ce l'avete avuta, no? Per il fatto di essere coordinatori di gruppo, comunità, diocesani, regionali. Qualche piccola croce. L'avete avuta. Qualche ferita c'è stata. Perché la nostra parte umana, tra virgolette, in qualche modo, non è sottomessa pienamente alla santità di Dio. E deve emendarsi. E un po' riceviamo il male degli altri, però perdonatemi, un altro po' lo facciamo pure noi. Sì, è vero che siamo feriti, però il problema è che ci scordiamo che le ferite sono quelle che abbiamo dato noi. O no? Io prima di venire qua, io l'ho litigato con mia moglie, l'ho ferita. Per quando poi ci si perdone. Però quel litigio provoca una... Poi ci si vuole bene. E questo succede pure nelle comunità. Sentite, abbiamo fratelli splendidi. Lo sapete che avete fratelli splendidi? Anche i peggiori in mezzo a voi sono splendidi. Anche chi vi crea problemi, a volte li crea, perché c'è una umanità ferita che è in un cammino, in un processo di santità. E se non c'è questa capacità di comprendere che siamo tutti, nello stesso tempo, feriti e feritori, noi non andiamo avanti. Questa parte umana che noi abbiamo è una parte che partecipa nelle scelte e partecipa nell'agire. O no? E noi stiamo per decidere quello che nella vita ordinaria, sociale di tutti i giorni, in qualsiasi tipo di relazioni abbiamo, si determina. l'esperienza della scelta di avere uno che ci rappresenti come entità, come corpo. Non è una scelta solo cristiana, è una scelta umana, dalle origini dell'umanità, possiamo dire l'uomo delle caverne. C'è sempre stato il capobranco. Qual è il vero problema? Che nella dimensione antropologica umana il capobranco soggiace a dei criteri. E la parola di Dio che oggi è stata proclamata, che è il cuore delle cose che vi voglio dire, il capobranco nell'esperienza degli esseri umani dall'uomo delle grotte fino ad arrivare a Giorgia Meloni oggi, per capirci, oppure se non vi piace Giorgia Meloni oggi parlate di Giuseppe Conte ieri o di chi volete voi, soggiace a delle regole. E le regole quali sono? Sono due o tre. Chi comanda deve sovrastare sugli altri. Prima regola. Seconda regola, se ci sono dei processi di scelta democratici, tra virgolette, chi comanda deve avere il consenso. ok? Allora, con questi due che possiamo dire punti di riferimento, nella società si scelgono le persone che sono alla guida di un contesto comunitario, civile, sociale. E questa legge è una legge iscritta nel DNA umano dalle origini, dall'uomo delle caverne. l'uomo delle caverne chi comandava era il più forte, quello che nel branco metteva tutti a tacere con un cazzotto in testa. Chi comanda? Comando io. E perché? Pum! Hai capito che comando io? Sì, comanda tu. Ecco. non è che è cambiato molto dall'uomo delle caverne ad oggi perché i pugni in testa li diamo in altro modo. Li possiamo dare con il potere economico, lo possiamo dare con la comunicazione, lo possiamo dare con la cultura, in modo per sovrastare un contesto sociale dove bisogna scegliere chi comanda, capite? Chi comanda è le dinamiche sono sempre le stesse. Ma Gesù nel Vangelo ci dice tra voi non dice non sia, dice non è. Non è così. Cioè tra di voi chi tra di voi vuole in qualche modo assumere un ruolo di guida che si erge al di sopra degli altri per inerzia non è manco un ergersi per forza per voler dire comando io ma che in qualche modo deve rappresentare un insieme di persone che stanno appunto vivono una dimensione di unità non può esistere tra di voi una persona che ragioni con queste categorie e ne può arrivare ad essere in qualche modo a capo di una realtà cristiana cioè voluta da Cristo da Gesù una persona che assume queste categorie. Capite che cambiano completamente i criteri di discernimento anche per chi scegliere in mezzo a noi. È una storia che nel popolo di Israele già era successa questa. Ricordate tutti come viene scelto Davide. Quando c'era da scegliere il re di Israele Samuele va da Iesse e gli dice il re è uno dei tuoi figli mi porti i tuoi figli qual è il processo mentale di Iesse che comprendiamo benissimo non è che Iesse stesse facendo un peccato a quel tempo il re doveva essere bello piazzato forte e intelligente prima il primo figlio che era così glielo porta e Samuele che deve fare il discernimento spirituale invece quello che voleva Dio non quello che voleva Iesse gli dice beh lo sa che ci sta di nuovo non è questo portami l'altro figlio portami l'altro figlio e non era mai quello giusto alla fine finiscono tra virgolette i figli Samuele dice a Iesse hai finito i figli sì no c'era un altro il più piccolo quello che stava nei campi a pasqualare me lo porti ed è lui capite che già lì noi scorgiamo che il modello elettivo di Dio non è il modello elettivo degli uomini Dio sceglie con categorie che non sono umane siccome noi oggi dobbiamo fare delle scelte lo spirito santo che non ci viene ad annullare l'intelligenza né la volontà perché noi non siamo dei burattini nelle mani dello spirito ma viene a illuminare le coscienze attenzione l'azione dello spirito non è che ti viene a dare il nome voto Antonio ok viene a illuminare la coscienza sui criteri che ti spingono a fare la scelta che è una cosa un tantino diversa e ti viene a ribaltare i criteri di discernimento umani se ci sono io mi auguro che non ci sono ma io questo lo devo dire prima che forse potrebbero portarti fuori pista come fece Iesse con Samuele questo ve lo dico non soltanto per le elezioni di oggi io ve lo dico per le elezioni dei vostri gruppi perché a settembre ottobre novembre si partirà nelle vostre realtà e attenzione perché nelle realtà comunitarie i criteri di consenso poi potrebbero essere tanti fuorché quelli di Gesù votiamo tutti a Giampiero perché? perché tanto si impegna lui porta avanti tutto lui fa tutto lui e quindi voto lui non perché lo chiama Dio ma perché io non voglio fare niente questo è un modo molto comune di scegliere le guide nei gruppi o votiamo Giampiero come coordinatore perché è quello che è più simpatico è quello che ha i modi con tutti è quello che e quindi lui ha basato la sua elezione sul consenso voglio dire faccio una battuta sto nella regione dove c'è il maestro della politica del consenso che si chiamava si chiama Silvio Berlusconi ok come è stato eletto sempre Silvio è stato eletto sulla capacità di creare il consenso sulla sua persona punto non per le idee che portava avanti ma per il consenso per il gradimento per la simpatia per l'attrazione perché ha detto tutto e il contrario di tutto come fanno tutti i politici ma ha saputo usare lo strumento della comunicazione per usare il consenso ma non pensate che nei nostri gruppi sta cosa non si faccia e invece noi dobbiamo avere altri tipi di criteri i criteri di scelta vanno a guardare il cuore vi darò pastori secondo il mio cuore ma secondo il mio cuore non significa secondo soltanto il mio sentimento di chi voglio bene e secondo il cuore può essere letta anche in un'altra maniera vi darò pastori che hanno il cuore come ce l'ho io dice Gesù perché quello è il vero pastore e uso il termine pastore in modo neutro maschile e femminile qua bisogna sta tendendo ok noi dobbiamo cioè scegliere persone che abbiano il cuore di Gesù il cuore di Dio tra voi non è così chi vuole essere il primo tra voi sia si faccia servo di tutti quando Gesù dice sta cosa io penso che sul piano della comprensione culturale sul piano della comprensione intellettuale gli apostoli avranno pensato oh è una bella cosa però vedremo tant'è che prima che Gesù abbia detto questo sono partite le dinamiche elettorali quella della raccomandazione e senti Gesù mi raccomando ma tu che diventi il Messia il primo ministro di Israele fammi il ministro pure a me questa è stata la causa nella quale Gesù poi ha detto sentite non funziona così tra di noi non funziona così tra di noi agli apostoli però poverini manca un elemento sapete che cosa manca agli apostoli il termine di paragone sulla cosa che Gesù dice quando Gesù dice tra voi non è così gli apostoli non possono capire tant'è che di fronte allo scandalo della croce andranno tutti via ma Gesù fa una cosa per farglielo capire ma la farà dopo la farà poco prima di morire la farà il giovedì santo perché quando dice si faccia servo gli apostoli non hanno mai visto un imperatore servo gli apostoli non hanno mai visto un re servo gli apostoli non hanno mai visto un governatore servo quindi Gesù gli dice una cosa che nella loro esperienza loro non hanno mai riscontrato Gesù sa che nel momento in cui chiede ai suoi discepoli di essere servitori come lui deve dimostrarlo lui come serve e lo fa il giovedì santo Gesù sapendo che era venuto dal padre e al padre ritornava quindi Gesù è consapevole della sua identità di figlio di Dio li amò e li amò fino alla fine il servizio ecco capito cosa significa passore secondo il mio cuore il servizio passa dall'amore a Dio e dall'amore ai fratelli voi dovete scegliere sempre non coloro che amano se stessi ma coloro che amano Dio e i fratelli questo è il fondamento di ogni servizio è il fondamento amore di Dio è l'amore dei fratelli e vi dico di più chi non ha fatto un'esperienza autentica dell'amore di Dio è bene che non serva ripeto il concetto chi non ha fatto un'esperienza sufficientemente valida dell'amore di Dio rischierà nel momento in cui si mette al servizio di voler gratificarsi dell'amore che gli dà il servizio non dell'amore che gli dà Dio mi avete capito cosa intendo dire per cui si attacca al servizio come tempo e luogo di affermazione e di gratificazione di se stessi quando invece sei pieno dell'amore di Dio della gratificazione che ti viene dal servizio a te non importa nulla dirà Paolo l'amore ci spinge cioè l'amore di Dio la molla del servizio non il dire finalmente i fratelli hanno capito quanto valgo hanno capito che senza di me il gruppo non va avanti innanzitutto il gruppo va avanti pure senza di te molto probabilmente meglio ok ma i fratelli non devono eleggerti perché in queste elezioni tu in qualche modo venga gratificato dalla scelta degli altri e ti senti finalmente qualcuno no a casa non conto niente perché mio marito non mi sta sentito i miei figli se ne sono andati via finalmente qualcuno riconosca quanto valgo cioè il mio gruppo ergo se non vengo eletto me ne vengo dal gruppo poi capite se io non vengo eletto nel pastorale di servizio mio marito non mi vuole i miei figli non mi pensano più manco il gruppo mi vuole andate tutti a farvi benedire quando la molla del servizio è la ricerca di una gratificazione personale non è l'amore a Dio è l'amore ai fratelli capite che è sempre un amore che ci spinge ma l'amore è a noi stessi ed è un amore egoistico erotico di auto preservazione e di affermazione Gesù sapendo che veniva dal Padre al Padre ritornata avendo amato i suoi li amò fino alla fine e questo amore fino alla fine non è soltanto la croce è questa a Kenosi questo svuotamento di sé delle sue prerogative divine della sua divinità si cinge nel nule e rava i dici allora lì gli apostoli di nostro mio Dio gli ha detto da che tempo prima tra voi non è così Gesù non lo dice a chiacchiere ma lo dice nei nei fatti quel tra voi non è così non è un'indicazione morale mi raccomando non fate così no no Gesù non fa raccomandazioni morali Gesù dà l'esempio da figlio di Dio si mette a lavare i piedi e si mette a lavare i piedi a tutti da schiavo pur essendo il figlio di Dio capite che tra voi non è così significa non l'annullamento tra virgolette della tua dignità ma l'innazzamento a Dio perché è un gesto divino adesso il servizio Gesù c'è riscatto il servizio agli ultimi ai poveri il tuo servire la comunità è un atto cristologico è un atto e hai bisogno di conformarti a Gesù per servire oggi noi andremo a scegliere in realtà tra due fratelli dignissimi e bravissimi e ringrazio il Signore perché conosco entrambi e va bene scegliete secondo quanto lo Spirito Santo e lo dirà nella vostra coscienza e poi sceglierete i coordinatori di Ocesani ma attenzione però ai criteri di discernimento al fratello o alla sorella alla quale noi daremo un incarico noi gli stiamo dicendo una cosa ti voglio vedere servo come Gesù ti voglio vedere servo come Gesù ma io so fare il servo come lo farebbe tra virgolette non lo so Biden no no devi essere come Gesù ma io lo so fare come Putin no 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 tu devi essere come Gesù io difenderò il rinnovamento come Zelensky sta difendendo l'Ucraina no tu devi fare come Gesù cioè lascia perdere le categorie umane che ti spingono ad assumere anche un ruolo anche a volte di protezione nei confronti della tua realtà della tua diocesi tu devi servire come Gesù vuole come Gesù ha servito sapendo che da quel giovedì santo poi scaturisce anche la croce non c'è servizio senza croce non mi voglio spaventare ho avuto responsabilità pastorale dall'88 non c'è stato un anno senza problemi nell'88 ero membro ripastorale nel 91 coordinatore di gruppo nel 94 coordinatore regionale nel 97 membro di comitato nazionale nel 2007 coordinatore nazionale quindi un po' di esperienza pastorale ce l'ho bene vi posso dire che dall'88 in poi ho avuto sempre un sacco di problemi che non ho mai risolto perché me le risolveva sempre Dio perché ogni quavvolta io volevo risolvere i problemi con le mie categorie umane con i miei processi mentali con i miei ragionamenti anche giusti non è che Dio mi superava e mi diceva a partire da questi ragionamenti io ti faccio andare oltre a partire anche dalla tua intelligenza devi un attimo però alzare il livello a partire dalla tua esperienza anche sociale culturale io ho fatto politico ho fatto sindacato quindi per farvi capire non è che proprio proprio ok mettili da parte queste esperienze qua non servono serve altro non che non non erano giuste ma non potevano essere il parametro il criterio di riferimento per poter fare quello che dovevo fare tra voi non è così tra voi non è così tutti abbiamo il nostro Getsemani eh ed è probabile che molti di voi parlo come coordinatori di gruppo come coordinatori di Ocesani siete venuti qui con non dico con la morte ma con l'incapacità di vedere fino in fondo il progetto di Dio che passa anche attraverso la croce quello che succede Gesù nel Getsemani Gesù sapeva che il padre l'amava però a un certo punto manamente non capiva il perché della croce è su da sangue per questo in Getsemani non è che non si pone interrogativi e non è che non si lamenta con il padre si lamenta e si lamenta e come però poi di fronte alla scelta di dire me ne torno Nazareth o andare sulla croce padre se vuoi passatemi questo calice ma non sia fatta la mia ma la tua volontà e allora sentite ve lo dico chiaro con il Signore non si va in pensione mai ve lo dico ma ve lo dico come qualcuno sta aspettando con ansia che finisca di fare il diocesano il regionale il coordinatore di gruppo no no vi posso assicurare e qui c'è un testimone vivente di quello che vi sto dicendo che con il Signore non si va in pensione mai perché ti chiede sempre qualcosa ti dice sempre mi ami tu noi siamo come Pietro ci guardiamo intorno e dice ma vedi Giampiero vedi ma che ti interessa Pietro disse Giovanni che fa Giovanni Gesù dice a me mi interessa quello che fa Giovanni mi interessa quello che devo farti fare a te capito Giampiero mi ami mi ami e questo amore nella vicenda personale umana di Pietro ha una storia che si realizza nel tempo quando ero giovane andavo dove volevo dire a Pietro ora che sono anziano mi legano le mani e mi portano dove vogliono gli altri questa è la storia di tutti coloro che hanno un briciolo di responsabilità nella Chiesa nella storia della Chiesa quindi sì sarai pure stanco di fare il coordinatore ma ti dico una cosa se lo devi fare e dai le dimissioni sarai più triste ascoltatemi a quello che vi sto dicendo tutte le stanchezze tutte le croci ma se la tua chiamata è quella il tirarti indietro non ti risolve il problema te lo amplifica perché avrai un vuoto nella tua vita che non aver fatto la volontà di Dio e quel vuoto è più grande come problema dei problemi del tuo gruppo mi state seguendo a buon intenditor poche parole io non so qual è la situazione del tuo gruppo della tua comunità difficile e chi non ce l'ha una situazione difficile termino viviamo in un tempo difficile e forse mai come in questo tempo noi capiamo le parole di Pietro nella sua prima lettera che parla dei cristiani come forestieri e pellegrini forestieri e pellegrini noi abitiamo questa storia abitiamo questo tempo abitiamo questo luogo e lo abitiamo come forestieri perché siamo qui ma non siamo di qui perché abbiamo un'altra prospettiva ok e siamo pellegrini cioè passiamo per le strade di questa nostra realtà il nostro è un cammino e questo camminare ci fa camminare nella storia le nostre realtà i nostri gruppi non sono nei luoghi nei quali si sta in modo statico i nostri gruppi camminano e camminando nella storia hanno le ripercussioni della storia noi viviamo un tempo difficile un tempo anche di persecuzione culturale il cristianesimo è diventato minoranza il modo di pensare cristiano oggi non è più apprezzato come un valore per la società anzi è considerato un disvalore e questa è una persecuzione mentre un tempo il cristiano anche l'ateolo lo considerava come un valore comunque per il bene comune oggi noi nella società siamo considerati un problema perché in una società nella quale i diritti individuali sono diventati più importanti del bene comune noi che abbiamo nel bene comune il valore di riferimento fondamentale capite che noi dobbiamo essere distrutti perché deve emergere l'individuo non la comunione e il cristiano oggi è perseguitato quindi è chiaro che nei nostri gruppi chi vengono tutte persone ferite dalle famiglie dal lavoro dall'economia dalla cultura e ti arrivano con queste ferite e ti stanno dentro e tu li devi accompagnare cosa che 30 anni fa non si faceva perché ti arrivavano belli tosti oggi sono tutti in frantumi e quindi oggi un coordinatore di un gruppo di una realtà di una diocesi di una regione non solo deve pensare a mandare avanti tra virgolette alla struttura ma in qualche modo è impegnato a stare accanto a chi soffre ma non lontano in Africa a chi soffre nel tuo gruppo e questo noi non siamo preparati a farlo ce lo diciamo ma lo dobbiamo fare perché qualcuno lo deve fare non è che ci possiamo preparare prima e poi lo facciamo lo facciamo e ci prepariamo e quindi oggi l'esercizio di una responsabilità pastorale esige la capacità di vicinanza ai fratelli e alle sorelle in una maniera completamente diversa da 30 anni fa ed esige anche un cammino comunitario più intenso mentre prima bastava un po' di preghiera e un po' di formazione oggi per rimettere su una persona con un po' di preghiera e un po' di formazione gli hai dato l'aspirina quando c'ha l'influenza non serve a niente gli devi garantire un luogo di comunità un accompagnamento fraterno una vicinanza un'intercessione continua consigli accompagnamento ed è tostissimo fare il coordinatore di gruppo così ed è tostissimo fare il diocesano così è tosto ma se te lo chiede Dio non puoi dire no perché in quel sì c'è il valore della tua esistenza in quel sì c'è la penezza della tua vita tra di voi non è così ma chi vuole essere il primo tra di voi si faccia servo di tutti buon servizio a tutti grazie 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 grazie